Buongiorno a tutti cari amici, un caro abbraccio da Nicoletta Guadiero, ci troviamo davanti gli studi di Radio Interland, è stato un periodo veramente complicato, difficile, abbiamo fatto molta fatica ad andare avanti con i programmi, ma adesso siamo pronti per ripartire insieme a voi, seguiteci e mi raccomando ascoltate sempre Radio Interland, la radio che ci incanta. Nella nostra radio abbiamo parlato di tantissime iniziative interessanti, di cultura, di bellezza artistica e paesaggistica da riscoprire e venite con me perché tra poco parlerò di un bellissimo evento che si terrà a Milano. Radio Interland seguirà da vicino una mostra fantastica che si terrà il 3 e 4 ottobre in via Baruta a Milano, di cosa stiamo parlando? Un bellissimo evento storico che si tiene dal 1964 in cui i pittori bravissimi guidati da Guido e Marcello Poggiani, che è il presidente del gruppo artistico di Eurodita, ci regaleranno delle bellezze artistiche per le vie, per le vie di Milano, in questa via Bagutta, bellissima, storica, noi di Radio Interland saremo là, siamo felici di partecipare con questi pittori a questo evento, abbiamo già realizzato tante puntate insieme, abbiamo parlato di arte, di cultura, di bellezza e questo è un appuntamento da non penso, mi raccomando, in via Bagutta, il 3 e il 4 ottobre, a cura del gruppo artistico di via Bagutta, non perdetevi questo appuntamento con l'arte.